La ragazza più ricca e più bella di Magdala stava per sposarsi con il ragazzo più ricco e più bello di Tiberias. Tutti ne parlavano, ma due settimane prima dello sposalizio Maria si accorse che le dita della mano sinistra si muovevano con una certa difficoltà. La madre avvertì il marito e il medico e questi diagnosticò. Paralisi progressiva irreversibile. La famiglia del fidanzato sciolse il contratto prematrimoniale. In pochi mesi tutto il suo corpo si incurvò e dimagrì. Dovettero chiudere la figlia in una camera del piano superiore, dove solo la madre e il medico la visitavano. Maria non voleva vedere nessuno, dolore, amarezza, desolazione. In quello stato era vissuta dieci lunghi anni, ridotta a pelle e ossa. Parlai di lei e mio figlio e disse a Matteo di condurlo alla casa di Maria di Magdala. La madre disperata disse al maestro, una grande disgrazio ci opprime. Mia figlia non vuol vedere nessuno, ma tu, maestro, sei sicuramente il benvenuto. E allora avvenne il prodigio. Maria si affacciò alla porta di casa. In pochi giorni tornò ad essere la Maria di prima, allegra, gentile, bella. Sono ritornata alla vita. Me l'ha ridata il profeta della Galilea. È stato per me come se mi fossero stati scacciati sette demoni. Questa vita nuova, recuperata, voglio che sia tutta al suo servizio. Maria di Magdala, dopo alcuni mesi, si unì al gruppo dei seguaci di Gesù. Salome l'accolse come amica e la loro presenza arricchì di molto il gruppo dei discepoli. Il giorno seguente, sabato, Gesù andò alla sinagoga di Nazareth. Ricevette dall'inserviente il rotolo del profeta Isaia e lesse, traducendola lui stesso dall'ebraico all'aramaico. Poi arrotolò il testo e sedette. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Il caro rabbino Ezechiele ci spiegava. Questo testo ci fa capire che il Messia che noi attendiamo non sarà un uomo di guerra, di potere e di dominio. Al contrario, l'atteso di Israele sarà un Messia che salverà gli uomini dalla loro schiavitù, dalla loro cecità, dal male che li opprime. Il Messia sarà anzitutto l'uomo dello spirito del Signore, che è spirito di bontà e di mitezza. In sinagoga Gesù cominciò a dire «Oggi si è adempiuta questa scrittura, che voi avete udito con i vostri orecchi». Poi parlò della sua missione, della miseria umana e della bontà di Dio, che ha avuto misericordia dell'uomo smarrito e ribelle. Gesù riferì a quel testo. Tutti erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano «Non è questo il figlio di Giuseppe? Da dove gli viene questa sapienza?»